Siamo con l'avvocato Carlo Fossati dello studio legale Chino Brugnatelli Associati, protagonista della tavola rotonda relativa alle nuove tecnologie e al loro impatto nelle relazioni industriali. Grazie innanzitutto per averci raggiunto. Grazie a lei. Vuole ricapitolare per i nostri telespettatori quali sono stati i punti salienti del suo intervento? Allora innanzitutto il tema è che personalmente ritengo che la visione positiva e ottimistica dell'impatto delle tecnologie sul mondo del lavoro che sta emergendo da questo incontro complessivamente sia un approccio condivisibile ma che questo non ci deve portare a sottovalutare la conflittualità che dal punto di vista sindacale questo cambiamento comporterà necessariamente almeno nel breve e medio termine. Il punto è che bisogna essere in grado consapevoli innanzitutto e in grado proprio dal punto di vista delle conoscenze, delle competenze di gestire questa conflittualità in un contesto sindacale che sta cambiando molto velocemente in cui il sindacalismo confederale risulta fisiologicamente indebolito e non ha ancora dimostrato di essere in grado di fare un upgrade che lo metta al passo dei cambiamenti che stiamo registrando e quindi in un contesto di crescente polverizzazione del conflitto, delle sigle sindacali, delle modalità di attuazione delle forme di protesta. Abbiamo avuto l'esempio in tempi recenti del collettivo Deliverance per quanto riguarda i cosiddetti riders e il loro modo assolutamente nuovo e anche un po' violento di porre le loro rivendicazioni sindacali. Il punto è che siamo pronti rispetto a questo cambiamento, siamo pronti rispetto a questo scenario? Probabilmente la risposta nell'immediato è no. Dobbiamo pensare a regole nuove, dobbiamo essere capaci di proporle e dobbiamo essere soprattutto capaci di confrontarci con una realtà molto diversa rispetto a quella che ha caratterizzato le relazioni sindacali nell'ultimo cinquantennio. Ecco, dal punto di vista normativo il lavoro è una materia soggetta a continue modifiche soprattutto negli ultimi anni. Questo cosa comporta per la vostra professione e ha senso parlare di formazione continua? Sì, allora, è chiaro che, ma questo ormai è un dato, credo, acquisito, che diventa a maggior ragione impensabile poter fare il nostro lavoro se non in un contesto di assoluta specializzazione, proprio per il motivo che diceva lei prima. Le regole cambiano una velocità tale che è difficile seguirle ed è difficile tante volte addirittura anticiparle, che è quello che dovremmo essere capaci di fare, se non... addirittura è difficile per noi che ci occupiamo soltanto di quello. Pensare di poterlo fare da generalisti è completamente fuori discussione, quindi questo è il primo tema, la specializzazione che deve essere potenziata e che diventerà inevitabilmente un fattore di rimente per quanto riguarda il successo o l'insuccesso di uno studio legale nei prossimi anni. Ma poi c'è anche un tema, a mio avviso, di partecipazione attiva al cambiamento normativo. Questo è qualcosa che in qualche modo fa un po' parte del DNA del mio studio, ma deve diventare parte della cultura di tutti gli specialisti. Cioè il cambiamento normativo non è solo qualcosa che dobbiamo studiare e a cui dobbiamo abituarci. È qualcosa che dobbiamo anticipare e aiutare a costruire avvantaggiandoci di un'esperienza professionale che ci consente obiettivamente di essere utili in questo processo. Ringraziamo l'Avvocato Fossati per essere stati con noi e io vi restituisco la linea.